buongiorno a tutti che dire ci stanno letteralmente viziando in pochi giorni ben due e dico due try on all questa volta un qualcosa di mega galattico ha annunciato la chiarona ovviamente parlo della coppia diabolica di quarto giaro il video in questione che andremo a commentare e visionare porta per titolo super try on all vestiti indossati by dress lily se l'altra volta era per new chic stavolta è per dress lily un'altra azienda che comunque gli invia praticamente il questi abbigliamento gratis che loro devono comunque provare e recensire bene partiamo subito con la visione di questo bellissimo video e andiamo a vedere cosa hanno ordinato questa volta la prima cosa che notiamo che la location è cambiata ci siamo spostati dal letto al divano a questo nuovissimo divano rosso fuoco e alle spalle della chiarona che è comodamente seduta sul divano ci sono un unicorno rosa e un peluche sembra un cagnolino di color beige bene io direi che la compagnia adatta c'è possiamo procedere con la visione di questa magnificenza di video benissimo primo articolo un tranquillo paio di jeans neri con le cuciture a contrasto 5 tasche e la sua particolarità a parte essere cucito con una stoffa elasticizzata che aiuta la vestibilità del capo ha una sorta di stropicciatura scoloritura come la definisce lei sulla parte centrale della gamba niente di eccezionale è un qualcosa di tranquillo portabilissimo direi che stiamo procedendo benissimo secondo articolo è un cardigan di color biancolatte lei dice che abbinato al cardigan c'era una sorta di cinturetta che comunque a lei non stava bene e ha rimosso dal cardigan è un qualcosa che le è piaciuto lo trova molto carino io lo trovo un po leggerino per la stagione ma comunque lei lo trova carino è soddisfatta dell'acquisto e comunque va bene niente di che un tranquillo cardigan color pan in lana terzo articolo non l'ho capito ancora presenta praticamente una cintura una cintura di un cappotto una cintura di colore nero con la fibbia metallica a incastro che una volta incastrata forma una sorta di x glitterata non ho capito perché ha presentato la cintura e poi presenta il cappotto fa una sorta di monologo su sto cappotto prima di presentarlo praticamente dice che a lei piace insiste su sta cosa non so a voi ma a me piace a me piace l'ha ripetuto 27 volte sembra che voglia più convincere se stessa che noi tra un pochino lo tira fuori aspettiamo c'è il monologo su sta cintura che poi è una cintura semplicissima di colore nero e porta questa fibbia a moti x sul davanti questo motivo decorativo ecco a un certo ecco perché è tutto il monologo tira fuori un cappotto sapete la giacca di taddeo il cacciatore che vuole catturare bugs bunny che ha quadri rosso e nero e poi il collo di pelliccia nero ecco così è il cappotto di chiara solo che è svasato lungo e poi porta lo stesso motivo del collo in pelliccia nero ai polsini e fondo all'orlo del cappotto praticamente un qualcosa veramente di osceno e sembra pure abbastanza leggero come non lo so non mi sembra mai un cappotto sembra più una vestaglia più che altro e quella che aveva fatto vedere prima era la cintura di questo cappotto qualcosa di veramente mamma mia cioè io la vorrei vedere con questo coso addosso per strada dio santo ma come si fa rosso un rosso fuoco e nero sembra sapete cosa visto così quando lei lo tira su sembra quelle tovaglie di natale scozzesi non so non so neanche definirlo mi lascia senza parole bene finalmente il monologo sul cappotto è finito mamma mia che orrore dice che adesso presenta il prossimo articolo indovinate che cos'è il prossimo articolo cosa ci sta bene con un cappotto a quadri rosso e nero con il collo di pelliccia ai bordi delle maniche il bordo del cellorlo fondo cappotto ci sta bene un paio di pantaloni dello stesso tipo in fantasia scozzese tartan ora non è proprio l'esatta fantasia cioè non sono proprio abbinate al cento per cento però diciamo che tutto sommato può andare sarebbe tipo cioè abbinati sarebbero come sapete quei completi che usavano i beatles negli anni sessanta così tutti a quadri tutti sfarzosi tutti sgargianti cioè questo era l'aggettivo giusto ma io non lo so come si fa a scegliere questa tipologia di vestiti vi giuro non ho idea praticamente adesso sta mostrando questi pantaloni li tira su fa vedere che hanno delle tasche sia sul davanti che sul dietro e poi sui fianchi presentano delle cerniere questi sono malati con le cerniere monologo sulle cerniere ecco effetto sorpresa per capire se le cerniere sono di bellezza oppure sono apribili con tanto di tasca un po' di suspense sì non sono di bellezza c'è una mini taschina ma lei comunque dice che non userà anche perché ha quattro tasche sia sul davanti c'è due sul davanti e due sul dietro quindi basta così poi mostra un po' la lunghezza della gamba del pantalone praticamente questi pantaloni hanno delle cuciture un po' a cavolo cioè non ce n'è una che combacia il davanti col dietro non ce n'è una che combacia le righe della fantasia solitamente quando stanno a cucire cioè i sarti diciamo quando stanno a cucire queste fantasie vanno allineate le righe sia del davanti che del dietro perché poi comunque nella cucitura centrale centro gamba e esterno gamba comunque si nota se voi le cucite storte oppure una più sopra un'altra più sopra e fanno un effetto orribile proprio dozzinale questo dei pantaloni di Chiara ecco è l'esempio più lampante di questa sciatteria di cucitura ma comunque a lei piacciono contenta lei contenti tutti ora passiamo poi a un capo che devo dire mi sembra abbastanza sobrio è una felpa di colore nero con un'applicazione in color mi sembra argento a forma di cuore sul davanti al centro della felpa poi non è una felpa normale una felpa tranquilla in quanto mostra una spalla scoperta e l'altra normale una spalla regolare l'altra invece scoperta e per reggere sia il davanti che il dietro il tutto è sorretto da una sorta di bretella fatta in glitter dello stesso materiale dell'applicazione che c'è sul centro della felpa mi sembra abbastanza sobria questa sì e poi comunque devo dire che questa volta in questo try and haul mi sembrano tutte misure adatte a lei mi sembrano tutti vestiti abbastanza grandi anche perché lei ha un po' il vizio di prendere dei capi di 3 4 5 taglie più piccoli della sua taglia reale che poi comunque non può indossare e deve mettere lì a polvere praticamente questa volta mi sembrano abbastanza grandi quindi lei promette comunque che nella seconda parte di questo video ci sarà praticamente l'indosso di questi capi che ha ordinato quindi non vedo l'ora di arrivare nella seconda parte del video bene passiamo ad un altro articolo la felpa l'abbiamo archiviata e ci abbiamo adesso qui un maglione barra vestitino in maglia in maglina ora voglio dire è di color terracotta sì un color terracotta assolutamente improponibile lei dice che è un vestitino credo sia pure leggermente aderente quindi vi lascio immaginare lei dice che piace e le piace tantissimo come l'ha vista se ne è innamorata di sto vestitino un qualcosa di di casual da indossare per uscire tutti i giorni sì certo certo che sì come no come darle torto no ragazzi non solo è una cosa obbriosa come colore come modello poi porta delle maniche orribili tipo fino a un certo punto sono strette dalla spalla a metà braccio sono strette e presentano una sorta di allacciatura con i lacci con le stringhe poi da metà braccio parte tipo sapete quei vestiti come di carnevale come le maniche delle streghe così a come svasate quelle maniche svasate ampissime così orribili ma dove va in giro questa così ma io non ce la faccio ma com'è possibile eppure c'è praticamente dove la parte dove ci sono le stringhe è aperta proprio praticamente quindi lei che ha il problema delle braccia grosse credo che praticamente le venga mezzo braccio fuori anche perché la manica sembra molto stretta rispetto al suo braccio credo che mezzo braccio sia fuori e l'altra metà la parte sottostante coperta poi vengono questi questi lacci tutti incrociati un qualcosa di orribile e poi sta manica svasata a mo' di pipistrello come la vuoi chiamare ma io vorrei conoscere lo stilista che fa questi capi perché sarebbe da denuncia continuo ancora con sto vestitino lo tira su lo tira giù magari fa delle cioè delle opzioni di indosso ci dice si può indossare con delle calze pesanti o un paio di leggings o anche no io direi proprio no ma comunque qui c'è una piccola presentazione prima di vedere il prossimo capo dice che è un altro cappotto non appena l'ha visto se n'è innamorata perché praticamente le ricorda qualcosa di fiabesco ora ancora non l'ha mostrato lo sta un po' prendendo lì non so da una busta non so da dove le prende poi le mostra a favore di camera aspettiamo di vedere questa roba fiabesca ecco ora che l'ho visto ho capito perché l'ha definito un qualcosa di fiabesco sembra il cappotto di mangiafuoco quello nella favola di pinocchio praticamente identico solo che mangiafuoco ce l'ha rosso lei l'ha preso nero ovviamente perché il nero sfina anche questo porta i bordi di pelliccia alle maniche all'orlo del cappotto cioè praticamente lo stesso fatevi presente il cappotto di mangiafuoco ecco ecco mamma cioè stavamo andando un po' bene stavamo andando bene e mi stavo meravigliando della cosa ma mi sa che siamo ritornati un'altra volta sui vecchi errori comunque la chiusura non è con i bottoni ma è con degli alamari e quindi a questo punto praticamente mi sembra un mix tra il cappotto di mangiafuoco è il cappottino di Lara di Lara il dottor Zivago ora pensate voi fate questo combo in mente vostra ecco immaginate un po' che visione terrificante a questo punto penso che l'appigliamento sia finito ci presenta praticamente il solito acchiappasogni di cui praticamente in camera ne hanno già 7, 8, 10 20 milioni e questo però è particolare perché comunque è glitterato e di color bianco panna con l'accetto per appenderlo rosa a me onestamente non è che piacciono tanto queste cose così le trovo un po' non lo so non sono l'amante di questa categoria di questi oggetti a loro invece piacciono tanti tanto perché vedo che ne hanno tanti avevano tempo fa se non ricordo male una parete intera dedicata a questi acchiappasogni comunque ne ha comprato un altro tanto per non farci mancare nulla sta continuando la descrizione di questi acchiappasogni praticamente nella parte sottostante presenta delle cordicelle a cui sono legate all'estremità delle foglie delle piume di color turchese azzurro e rosa sono veramente un qualcosa di non lo so tamarrissimo me lo concedete come come aggettivo tamarrissime non lo so che brutte mamma mia avevano fatto una camera così carina e adesso la stanno rovinando comunque vedo che sono perplessi anche il cagnolino di peluche alle sue spalle e l'unicorno rosa fanno cenni di dissenso hanno ragione come dargli torto non è finita qui perché questa chiappa sogni udite udite non vi eccitate troppo presenta anche una sorta di piccola lucina praticamente da un lato solamente al cavetto con l'interruttore praticamente si può illuminare e spegnere come voi volete se lo volete tenere acceso o spento quasi quasi mi emoziono anch'io ma manco per niente scherzavo e siamo finalmente alla seconda parte del video dove lei indossa questi capi bellissimi faccio finta indossati allora il primo capo indossato ovviamente sono quei jeans neri elasticizzati che aveva mostrato proprio nella prima parte del video come primo articolo sono dei comunissimi jeans neri ovviamente lei a un certo punto tira su la maglietta per far vedere dove arrivano nella vita praticamente sembra che ha sotto tipo quei body da neonato con il fondo bianco con tutti i pupazzetti disegnati cioè a vederlo così sembrano dei body da neonato ma comunque non lo so cosa si è messa là sotto vabbè comunque un paio di jeans tranquilli devo dire nulla di trasgressivo ci sta bene secondo articolo indossato è quella felpa nera con l'applicazione al centro di un cuore colore argento devo dire che questa abbastanza si può andare perché non le sta stretta le sta abbastanza bene ovviamente è chiara a tanti chili in più quindi non è che ci si può aspettare che indossando una felpa nera si diventi gisel bunker però comunque questa penso che può passare le sta bene dai stiamo procedendo bene ecco siamo arrivati all'indosso di quel cardigan di colore bianco e non si chiude perché lei ha tirato via la cintura perché forse non le arrivava giustamente perché comunque la taglia è grande molto spesso sono curtissime le cinture ci sta lo indossa praticamente le si chiude anche sul davanti perché lei addirittura ci fa un incrocio ma una cosa che noto forse è nuda sotto perché comunque dalla scollatura del cardigan sembra che sia nuda non si vede né maglietta né reggiseno niente si vede quasi boh non lo so mi sa che un'immagine 8 questa forse gliela censurano no siamo arrivati all'indosso di quel vestitino in maglina di color terracotta chiaro le maniche sopra la parte superiore delle maniche le fanno effetto salame tutto intrecciato orribile le maniche le sono lunghe la parte sottostante delle maniche sono lunghissime e sono molto ampie il vestito le va super aderente praticamente come se fosse nuda le si vede perfino il segno del reggiseno sottostante direi che è qualcosa di no assolutamente bocciato bocciatissimo ma sanno tutti che comunque questa tipologia di tessuto non sta bene a tutti sta bene alle persone abbastanza magre e in forma anche perché indossando abiti aderenti di maglina praticamente come se si fosse nudi ti va a segnare tutti i rotolini tutti gli anestetismi e non è una cosa bella da vedere siamo arrivati all'indosso dei pantaloni scozzesi e le stanno perché a quanto pare le ha tirate su mi sembrano anche allacciate sul davanti è una fantasia troppo comunque se a lei piacciono perché no no ragazzi siamo arrivati all'indosso di quel cappotto orribile allora ve lo descrivo in poche parole c'è il collo tipo collo baby sapete quello con dei coli con dei pizzoni lunghissimi tipo non lo so anni 60 di pelliccia nero poi le cuciture davanti non combacia la parte sinistra con la parte destra del davanti la fantasia non combacia praticamente una più sopra di 3 centimetri e l'altra più sotto sapete adesso così indossata cosa mi sembra il vestito di zio fester quello della famiglia adams tutto nero uguale così veste uguale oppure il collo sopra uguale ma no ma da per favore io non ce la faccio a guardarla ci ha aggiunto poi in un secondo momento ci ha aggiunto quella mitica cintura a forma di x e devo dire che sì adesso effettivamente la cosa cambia adesso sì che è un qualcosa di spettacolare sì ci voleva la cintura ha ragione sì 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 siamo all'indosso dell'ultimo capo penso quello il cappotto nero praticamente le schiaccia tutto il seno davanti fa delle grinze strane delle grinze strane non lo so è una stoffa bruttissima sembra praticamente di plastica di gomma non lo so le fa tutte pieghe sul davanti no non le sta assolutamente bene se vede che è stretto comunque non può neanche allargarlo perché non presenta i bottoni normali ma gli alamari quindi dovrebbe staccare tutto un bel casino o lo porta aperto ma comunque è brutto da vedere non lo so mi sembra proprio cinesissimo ma la cosa che fa più sorridere tutte le faccette che fa lei quando indossa sti capi secreti tipo non lo so un angelo di victoria secret non lo so a tratti è pure simpatica dai non è che è carina la cosa poi queste musichette che sceglie molto allegre boh che dire non lo so ogni volta mi lascia un po' sconcertata ma non tanto per le per le taglie perché ovviamente uno lo sa se porta una taglia grande non è che può prendere una L una S è ovvio no cosa mi dici però comunque la scelta dei vestiti è qualcosa di eccezionale non lo so sembra sapete quando qualcuno li compra bendati i vestiti e quindi quello che capita capita lei compra sempre il pezzo è praticamente la prerogativa di Chiara prendere il peggio del peggio e portarsela a casa e sentirsi strafiga non lo so come fa beata lei ad un certo punto devo dire beata lei comunque a questo punto il video di Chiara è finito ha indossato tutto ha mostrato tutto complimenti per il coraggio devo dire è finito il suo video e finisce anche il mio io vi ringrazio per l'attenzione che mi date per l'ascolto vi mando un bacio grande e vi do appuntamento al prossimo video un bacio a tutti e vi do appuntamento e vi do appuntamento